La Regione Abruzzo non darà mai il proprio assenso alla realizzazione della centrale gas a Sulmona e in Valle Peligna. L'ha detto ieri il Vice Presidente della Regione Giovanni Lolli, nella riunione con i rappresentanti della SNAM. Se riapre il confronto e la partita politica, sono dei temi scottanti che divide ancora l'opinione pubblica. Metanodotto sì o metanodotto no? Io dico di sì. Ma se è tossica non sono d'accordo. Metanodotto è un po' pericoloso. No. Per rilanciare muore l'occupazione con delle cose che forse non inquinano, può darsi che la città comincia a tirare fuori il nome sì. No. 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 Metanodotto assolutamente no. Sono pochi coloro che credono ancora nella centrale come Volano per rilanciare l'occupazione in Valle Peligna. Se il metanodotto rilancia il lavoro ma inquina l'ambiente, incalzano i sulmonesi, allora non ci guadagniamo nulla.